Lunedì 24 gennaio Ariete, se avete idee per incrementare gli introichi dell'attività lavorativa grazie a Marte ben disposto, troverete un complice fidato per concretizzarle. Evitate di rivelare i vostri progetti ad un amico scettico, vi frenerebbe con le sue osservazioni. Toro, con Venere, Marte ed Urano benevoli potreste guardare improvvisamente con occhi diversi una persona finora solo amica e vederne tutto il fascino. Un'insolita proposta vi incuriosirà molto, accettatela senza inutili e sterili tentendamenti. Buttatevi. Gemelli, per colpa di Giove o sì, le imprese allettanti si riveleranno più dispendiose del previsto. Prima di rischiare chiedete consiglio ad un esperto, la luna vi farà trascorrere un piacevole lunedì, incontrando situazioni emozionanti e piacevoli. Cancro con Marte e Plutone contrari, fate attenzione a bilanciare bene l'eccessiva attività con i tempi di riposo, il fisico ne potrebbe risentire. Marte è opposto dal segno del Capricorno, ritmi sostenuti e tanti compiti. Il tempo non vi basterà mai. Leone, prima o poi Saturno andrà a transitare altrove e le piccole rinunce e la pazienza messe in campo alla fine verranno premiate. Se siate ottimisti, con Mercurio e Saturno in opposizione sarete molto suscettibili, basterà una sola parola per ferirvi. Vergine, grazie ai favori di Venere e Plutone, il vostro sorriso magnetico e seduttore vi aiuterà ad aprire tutte le porte, anche quelle chiuse a doppia mandata. Riattivate il metabolismo non sopito di questa stagione fredda con qualche camminata nella natura. Bilancia, con la Luna che sorride a Saturno e bisticcia con Plutone è giornata altalenante con situazioni stressanti che richiedono dispendio di energie. La Luna in trigono a Saturno vi aiuterà a migliorare e consolidare la relazione con la persona che amate. Scorpione, Urano sfavorevole dal segno opposto del Toro creerà delle difficoltà inaspettate che potrebbero farvi rimandare o rallentare un progetto a cui state lavorando. Con Saturno quadrato il consiglio di un amico sarà risolutivo, ma vi richiederà ferrea autodisciplina. Sagittario, l'azione di un serio avvenuto Saturno renderà concreti quei desideri che in origine erano poco realizzabili, suggeriti da Nettuno o contrario. L'ottima Luna nel segno della bilancia oggi vi dona tanta serenità e allegria da trasmettere agli altri. Capricorno, con la Luna in bilancia quadrata a Plutone, in casa vostra l'umore oggi è instabile. Dovrete mettere in conto la sofferenza e qualche brusca reazione. Regalatevi un capo di abbigliamento nuovo, se può aiutarvi a sentirvi meglio nella vostra pelle. Aquario, per merito della Luna in bilancia in trigona Saturno congiunto, oggi finalmente potrete cominciare a raccogliere i frutti del vostro impegno. Avrete l'occasione di lavorare fianco a fianco con persone di alto livello, da cui imparare moltissimo. Pesci, grazie a Marte in se stile che svetta nel vostro cielo, avrete forse audacia, idee brillanti per soluzioni ingegnose ai problemi contingenti. Venere è vostra complice, espressione creativa e favorita nelle attività artistiche e in quelle legate allo spettacolo. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS